buongiorno al terzo giorno di bluogliastra stiamo andando alla spiaggia di calamariolu per attraversarla e poi andare in deviazione mudaloru dove ci aspettano delle calate in corda quindi andiamo eccoci qua abbiamo terminato il video di la salita da mariolu bellissima eccezionale bene adesso andiamo a fare il sentiero per le calate ci vediamo di là a 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